A lezione di nuovi media presso l'Università Van Vitelli, che ha ospitato il giornalista e scrittore Beppe Severnini, vice direttore del Corriere della Sera, nonché collaboratore del The New York Times. Cambia tutto e va bene così, una visita guidata nel labirinto dei media. Questo è il titolo dell'Alezio Magistralis, tenuta dal giornalista originario di Crema. L'abirinto dei media vuol dire che sta cambiando tutto, da 10 anni e non da 30, da 40, da 20, è da 10, praticamente è quando c'è la banda larga sui telefonini e sono arrivati i social, quindi dal 2006-2007. Vuol dire che le copie dei quotidiani di carta sono dimezzate. Oggi è l'unico quotidiano italiano che vende più di 200.000 copie al Corriere della Sera e sono pochissime rispetto a quelle che vendevamo. Le copie digitali non stanno funzionando come in America, i ricavi da internet non sono quelli, per esempio, di Facebook o di Google, che si pappano quattro quinti dei ricavi. Allora, come si esce da questo labirinto? Voi lo sapete, no? Se lo sapete ditecelo, perché nessuno ha la risposta. Intervenuto il rettore dell'Università Van Vitelli, Giuseppe Paolisso. L'idea era quella di portare qua grandi personalità che ci servono a dare una dimensione internazionale e nazionale della nostra Università, ma ci serve soprattutto per contaminare i nostri studenti con personaggi che danno delle grandi lezioni, anche se non sono direttamente introdotti nel mondo accademico.